La musica di Audimus finalmente riparte. Siamo giunti di nuovo al momento della, appunto, ripartenza, speriamo definitiva, speriamo di non tornare più in una situazione di chiusure e di blocco della cultura e delle iniziative culturali. Speriamo di poter continuare a lavorare. Audimus riparte il 26 di giugno, sabato, con un concerto orchestrale in piazza a Pradamano, sperando nel bel tempo, altrimenti si porterà il concerto all'interno nell'auditorium che è proprio lì adiacente alla piazza, con un programma dedicato a due grandi compositori, Mozart e Bartók, e concerto segnato da un tratto di allegria voluto nel tracciare questo programma proprio per un desiderio di ripartire con una marcia in più e quindi sarà, diciamo così, caratterizzata dalla presenza di danze all'inizio e alla fine del concerto. Delle contraddanze aperte da un'ouverture mozartiane, le K106 per l'esattezza, che apriranno il concerto in un piccolo, diciamo, overture, come un piccolo cappello di questo concerto, per poi entrare nel vivo con l'esecuzione della celeberrima sinfonia mozartiana K550, la numero 40, insomma famosissima, e per poi invece ritornare alle danze e quindi a questa gioia di vivere e di ripartire con la musica e con la cultura con le danze popolari rumene di appunto Bella Bartók. Questo concerto vuole essere veramente un rilancio e invitiamo tutti quanti voi a partecipare, a venire, per dare un segnale che la musica, per quanto sia bello ai nostri giorni poterne godere con le registrazioni, con YouTube, con i dischi, noi siamo molto fortunati, possiamo ascoltare musica sempre in ogni momento della giornata, ma per non dimenticare, proprio per ricordare a noi stessi che la musica dal vivo è la vera musica, perché il suono ha modo di prodursi nella sua pienezza e nella sua interezza e quindi raggiungerci e colpire la nostra coscienza solamente quando c'è un'esecuzione dal vivo. Quando noi ascoltiamo la musica registrata, certo è molto bello poterlo fare, ma è sempre una imitazione più o meno veritiera dell'originale. La musica dal vivo è quella che può veramente prendere la nostra anima e, come dire, lasciarle una traccia indelebile. Quindi venite numerosi il 26 di giugno a Pradamano per il concerto a ingresso gratuito, come sempre o quasi sempre i nostri concerti, per celebrare insieme questa ripartenza. Vi aspettiamo!